Crollano i contagi da Covid-19 in Puglia. Ieri sono stati individuati 71 casi positivi su poco più di 4.100 test effettuati, pari all'1,7%, percentuale inferiore a quella nazionale. Insomma, dati finalmente confortanti, cala anche il numero dei decessi, ieri 11. Dati che hanno spinto la Giunta regionale pugliese a approvare l'aggiornamento della rete ospedaliere Covid. Con la delibera di oggi, ha spiegato l'assessore della sanità Lopalco, cominciamo a far respirare il sistema sanitario messo sotto stress, dalla pandemia. Quest'emergenza resterà nei libri di storia, ma dobbiamo sempre ricordare che pur nei momenti più duri è stata sempre data assistenza senza lasciare nessuno fuori dagli ospedali. Ora, detto Lopalco, cominciamo un percorso che porterà alla normalità, consapevoli che l'emergenza potrebbe tornare in maniera inaspettata. Le strutture realizzate, precisa l'assessore, resteranno pronte a essere utilizzate, sapendo anche che c'è una quota rilevante ancora di casi positivi e di ammalati che vanno curati nel modo migliore. L'attuale rete ospedaliera Covid si compone di 2.754 posti letto così distinti, 340 terapia intensiva, di cui 84 già previsti negli ospedali e 256 aggiuntivi, 2.414 di area medica, di cui 600 negli ospedali e 1.814 aggiuntivi. Sulla base delle necessità assistenziali e del caldo dei contagi, di gran lunga al di sotto delle soglie critiche fissate dal Ministero della Salute sia per aree mediche che per le terapie intensive, l'Aggiunta ha deciso la totale riconversione all'attività no Covid per le seguenti strutture. Ospedale di Barletta, ospedale San Paolo di Bari, ospedale di San Severo, casa di cura Villa Lucia Ospital di Conversano, struttura campale della Marina Militare di Barletta, ospedale Martina Franca, ospedale di Castellaneta, ente ecclesiastico Miulli di Acqua Viva delle Fonti. Passaggio necessario per garantire la ripresa delle attività ordinarie e il conseguente recupero delle liste d'attesa. Entro il 31 luglio, però, si dovrà comunque definire un nuovo piano pandemico della rete ospedaliera Covid e no Covid per fronteggiare un'eventuale recrudescenza della pandemia.